27 anni, una laurea in scienze ambientali messa nel cassetto, è il sogno di proiettare l'azienda di famiglia con 30 anni di storia nel mare magnum del web. Biagio Cavaliere ha lanciato a se stesso una sfida per dimostrare che anche da un piccolo paese della periferia della Calabria si può costruire qualcosa di importante. Utilizzando le competenze della nostra azienda, che ha più di 30 anni di storia grazie a mio padre, ho cercato comunque di dar vita a un progetto impegnativo, è quello di digitalizzare la nostra azienda, quindi varcare il confine, cercare di andare a trovare altri clienti fuori dal nostro territorio e ci stiamo riuscendo alla grande. Siamo partiti da poco, sono solo tre mesi che stiamo lavorando su climateshop.it e i risultati sono arrivati. La ricetta è semplice, professionalità, comunicazione, internet, esperienza consolidata e lavoro di squadra perché l'individualismo ha fatto il suo tempo. Noi siamo 5-6 persone adesso che ci stiamo occupando di questo progetto, l'impegno deve essere cospicuo, tanto è vero che appunto non abbiamo orari e i risultati li stiamo avendo perché comunque stiamo offrendo un servizio che grazie ai tecnici specializzati non abbandoniamo il cliente ma gli facciamo capire che noi ci siamo anche per le consulenze. Altro strumento che il gruppo guidato da Biaggio ha deciso di sfruttare è il canale YouTube. Qui i vari componenti del team offrono informazioni gratuite favorendo sia l'acquisizione di nuova clientela che le interazioni professionali con altre realtà aziendali. Hanno fatto uno sforzo i ragazzi perché c'erano alcuni che non lo volevano fare, poi si sono convinti e hanno visto comunque i risultati che hanno avuto e tra l'altro ci tengo a precisare che uno di questi qua ha fatto questo tutorial ed è stato condattato da un'azienda, un'azienda che è del suo settore, che parlava della Green Economy ed è stato condattato da questa azienda per collaborare con loro e quindi già per me vuol dire tanto, dire dal nulla così abbiamo dato modo anche a loro, professionisti, perché ci sono, ripeto, ci sono tanti ragazzi che sono bravissimi nel loro mestiere e ho dato modo a loro comunque di farsi notare. Spirito di iniziativa, entusiasmo, umiltà. Quello di Biaggio è un esempio per chi crede in se stesso e ha voglia di mettersi in gioco. Io potevo scegliere altro, magari continuare quello che faceva mio padre, ma sto cercando di avere, tra virgolette, dei risultati miei, quindi delle soddisfazioni mie personali e in, ripeto, in tre mesi non posso dire che ho avuto delle visite assurde, però ho avuto delle soddisfazioni e me le sono tolte.